8 e 38 e quindi abbiamo 20 minuti di tempo perché parliamo di elezioni amministrative di Como e quindi ovviamente lo spazio deve essere rigorosamente uguale per tutti i candidati. Presentiamo le liste in questi giorni, oggi a Como Comune, ci facciamo raccontare dai nostri ospiti tra poco di che cosa si tratta. È un progetto che va a supportare uno dei candidati sindaci, ma intanto saluto Aurora Longo che è la capolista. Buongiorno Aurora, buongiorno a te e saluto anche Stefano Rognoni, candidato consigliere. Buongiorno Stefano. Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un caro saluto, affascinati dal mondo della radio, i nostri ospiti. Sì, hanno fatto po' le domande. Infatti, vabbè. Magari mi porterò il curriculum. Allora, intanto a proposito di curriculum vogliamo presentare Aurora ai nostri telespettatori, ti chiedo una breve carta d'identità. Chi sei e cosa hai fatto e perché ti sei candidata? Allora, ho 47 anni, esercito la professione legale, da sempre appassionata di politica. Fino ad un certo punto della mia vita, diciamo, ho fatto politica passiva. Poi dal 2014, quando mi sono candidata alla carica di sindaco a Cermenate, ho iniziato la parte di politica attiva. Attualmente faccio parte di questo grande gruppo, di questa convergenza ecosocialista chiamata Como Comune, di cui ci sono quattro partiti che sono i componenti principali. Articolo 1, partito per il quale sono iscritte, sono anche un quadro regionale. Sinistra italiana, socialisti in movimento e il partito socialista. Quindi siete, Aurora, sono confluiti tutti, no, nel, diciamo così, grande famiglia di Como Comune, no? Si chiama proprio così. Esatto, esatto. È stata questa proprio una sfida anche a livello nazionale perché dal nazionale, diciamo, generale delle sinistre ci hanno guardato come degli osservatori speciali, ecco, perché non è facile comunque avere un'unione così composita, composta anche da tante persone che non hanno tessere di partito ma che si riconoscono nell'orizzonte ecosocialista. Sostenete? Sosteniamo Barbara Minghetti. Barbara Minghetti, candidata sindaca, centro-sinistra sostanzialmente. Abbiamo già avuto altre liste che la supportano, c'è anche Como Comune. Stefano, allora, intanto grazie di essere qua. Carta d'identità, chi sei? Se vuoi dire gli anni, a lei non glielo ho chiesto ma l'ha detto lei. L'ha detto lei, quindi siamo... Vai pure. Allora, ho 34 anni, sono impegnato in politica a Como dalla maggiore età, praticamente, da quando ne avevo 18. Adesso lavoro a Milano, sono anche militante sindacale su Milano e a Como mi sono attivato quando c'è stata la problematica dei migranti in stazione San Giovanni. Ho dato una mano per l'accoglienza di queste persone che stavano fuggendo da guerre, da fame e da problemi nei loro paesi e che hanno ricevuto, secondo noi, un'accoglienza da parte delle istituzioni al limite dell'inumano. Per fortuna si sono attivati tanti cittadini, tante persone volontarie, attraverso la Caritas, attraverso i sindacati, che hanno fornito quello che purtroppo le istituzioni non sono riuscite a fornire. Il mio impegno è portare l'esperienza sia dal punto di vista del volontariato, sia dal punto di vista della tutela dei lavoratori, perché la mia esperienza politica e sindacale è votata da 16 anni alla tutela dei diritti dei lavoratori, all'amministrazione di questa città. Ok, allora, torniamo a Aurora. Hai già presentato, Aurora, questo progetto di Como Comune. Quali ci sono dei punti sui quali voi vi sentite di rivolgervi ai nostri telespettatori? Poi sentiamo magari anche Stefano, qualche cosa c'è nel vostro programma, ripeto, un programma che vede confluire ben quattro forze alla fine sotto l'unico nome, anche per non disperdere un po' il tutto, forse Como Comune. Vai Aurora. Allora, quello che ci contraddistingue e ci differenzia innanzitutto è che siamo l'unica lista di sinistra presente in questa coalizione. Un ulteriore aspetto non indifferente, noi abbiamo sempre puntato a mettere al centro di qualsiasi aspetto che riguarderà l'azione amministrativa le persone, le persone con i loro bisogni, le loro necessità, le loro richieste che fino adesso e comunque per tanto tempo sono rimaste inascoltate. Ok, quindi giovani, meno giovani, anziani ovviamente, sono poi in quelle fasce particolarmente deboli che magari forse necessitano di... Esatto, soprattutto in questo periodo poi di pandemia, con la guerra, in questo scenario di cui nessuno si sarebbe aspettato, ecco, noi mettiamo al centro le persone, le persone con i loro bisogni. Infatti, questo noi lo vogliamo ricalcare, facendo presente anche come è stato costruito ed elaborato il nostro volantino e il nostro logo. Se vuoi farlo vedere, puoi farlo vedere. Qua, questa camera magari... Ah, quella, ecco, sì, perfetto. Cioè, anzitutto è colorato e quindi vuol dire che tiene in considerazione la presenza di moltissime persone. Postano magari... ok, perfetto, ok. Ma è bene, a parte che c'è già anche il logo già ufficiale, quindi ok. Donne, uomini, giovani, bambini, persone con disabilità, persone che amano la natura, gli animali. Ecco, questi sono gli aspetti che noi teniamo in considerazione. Le persone con la loro voglia di vivere, la qualità della vita al centro di attenzione. Perfetto, ok. Queste sono le cose importanti del programma. Como comune, mi dicevi Aurora, tu sei la capolista. Sì. Avete già completato la lista? Sì, abbiamo completato la lista. 24 persone... Etterogenee? Etterogenee, sì. Etterogenee sia l'età sia donne e uomini. Ognuno con un'esperienza non solo politica ma anche personale, nel volontariato, nell'associazionismo. A titolo personale magari si può anche fare politica, non attivamente, attraverso la cultura, attraverso la musica, attraverso lo sport. Ecco, la nostra lista ricomprende tutto ciò. Perfetto, allora, come comune oggi la presentazione salutando Marinella, Luca, Clara, buongiorno anche a te Clara, saluti a Cinzia, Vittorio, a Nonna Agnese, buongiorno. Sui nostri gentili telespettatori con noi ci seguono in diretta sui social ma c'è ovviamente anche la diretta radio. Nelle prossime settimane, Stefano, avremo anche un camper, gireremo in città, ovviamente inviteremo anche voi ad intervenire. Che cosa ti piacerebbe poter risolvere nel caso ovviamente i comaschi dovessero scegliere anche la vostra coalizione? Ma io penso una questione veramente importante è ridare centralità appunto alle persone, ma fornire ai quartieri la possibilità di essere in sé anche autosufficienti, dare a tutti i cittadini, a tutti coloro che vivono como, che non sono soltanto le persone che la vivono da generazioni, ma sono le persone straniere che si sono integrate, che hanno aperto l'esercizio commerciale, gli studenti dell'insubria e del conservatorio, gli studenti che vengono nelle scuole superiori della città provenendo da altri comuni e fornire loro intanto un trasporto pubblico potenziato e incentivato soprattutto. Noi pensiamo sul lungo periodo di ragionare su una gratuità per i giovani del mezzo pubblico e su un suo potenziamento... È un'idea che non ho mai sentito, però ovviamente magari ti chiedo anche come... cioè è una cosa che può certamente magari interessare anche al mondo giovanile, ma come è possibile, a tuo giudizio? È possibile? È possibile, è stato fatto in altre città, ad esempio a Lecco è stato fatto. Ovviamente servono degli investimenti importanti e pensiamo che il trasporto pubblico sia uno dei punti centrali della necessità di amministrare la città, perché ne deriva la viabilità, ne deriva uno smagrimento del traffico. Ecco, e anche e soprattutto adesso c'è stata la pandemia per cui si è ragionato di limitare il numero di persone all'interno di ogni autobus, ma poi quando l'emergenza finirà, secondo noi è impossibile pensare di tornare a decine di persone stipate negli autobus che non si riesce a entrare. Bisogna fornire un servizio fruibile che sia di qualità e competitivo rispetto al mezzo privato, altrimenti ci troviamo sempre tutte le auto in centro e continuiamo a ragionare di parcheggi. Stai dicendo chiaramente una cosa estremamente interessante e direi anche importante, dopodiché l'applicazione pratica è ovviamente, te l'ho chiesta perché immagino che, però ecco è importante se ritenete di aver trovato una importante soluzione, presentarla magari in questo momento, certo è uno sviluppo, sarebbe uno sviluppo importantissimo per la città, per come è concepita Stefano la città, giusto? Assolutamente, bisogna studiare il modo migliore per raggiungere questo obiettivo, assolutamente, e ci impegniamo ad avviare lo studio nel più breve tempo possibile, una volta che si sarà formato il nuovo Consiglio Comunale, perché lo riteniamo un obiettivo strategico, ecco, per la qualità della vita in città. Aurora, sentiamo se vuoi aggiungere ancora qualcosa tu del vostro programma, delle varie idee, anche che Stefano ha messo lì sul tavolo, direi anche assolutamente interessanti, per il mondo giovanile soprattutto. Certo, sposo perfettamente quello che ha appena detto Stefano, ci teniamo moltissimo a puntare sull'università, su Como, città universitaria, perché comunque nonostante ci sia un'università, alla fine l'entusiasmo iniziale che si era manifestato in questa città, mano a mano è andato a calare. Questo perché nel corso del tempo ci sono stati, diciamo, delle persone che hanno gestito l'università, non probabilmente con l'occhio rivolto al futuro dei giovani. Non hanno reso questa città allettante per i giovani universitari, per cui questo è un punto fermo del nostro programma, cercare di rendere attrattiva a Como per gli universitari. Chiaramente uno degli aspetti fondamentali è anche migliorare l'utilizzo dei mezzi, soprattutto non alleggerire il traffico veicolare della città che va a far morire, diciamo, chi ha voglia di introdursi in città non usando i mezzi. Per cui il nostro obiettivo sarà quello di incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi, la mobilità dolce, in modo tale che le persone... Quindi facci capire, i mezzi alternativi sono piste ciclabili, biciclette... Vedo che ultimamente, qualche volta l'ho fatto anch'io, il monopattino è una cosa, però anche lì magari con apposite corsie, perché in mezzo alla strada a volte diventa un po' un pericolo. Oppure inserendo dei bus che facciano delle fermate che al momento non sono previste, rafforzando anche la linea ferroviaria e facendo in modo che comunque l'utilizzo del treno possa essere reso fruibile e utilizzabile da più persone. E poi, ulteriore aspetto importante, i servizi nei vari quartieri, nelle cosiddette fasce di cintura e soprattutto ci teniamo a dire che il nostro obiettivo sarà anche quello di creare le case di quartiere, dove ci saranno, in queste case di quartiere, delle persone preposte che fanno parte proprio di quel quartiere, che saranno i punti di riferimento di chi vive in quel quartiere, delle persone sole, delle persone che magari non hanno parenti, delle persone che hanno disabilità o problemi di salute, in modo tale che non si sentono abbandonate. E le case di quartiere saranno il tre d'union con la nuova amministrazione, o comunque in generale con l'amministrazione. Cinque minuti ancora a disposizione per Como Comune. Nel frattempo, i nostri gentili telespettatori che ci stanno salutando, buongiorno ancora a tutti, e tra cui Dario, che ci segue da Felbach, in Germania, dice che lì c'è, a proposito del trasporto, una cosa che io ve la butto lì, prova con biglietto per i mezzi pubblici, nove euro al mese da giugno ad agosto. E devo dire che in effetti questo potrebbe essere assolutamente... Poi, certo, va valutata anche la morfologia, diciamo, un po' della città, che spesso ha dei punti dove non consente magari il passaggio dei mezzi, le famose corsie riservate ai bus, è giusto Aurora? Non so se sei d'accordo. Sì, 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 sono d'accordo. Ma il suggerimento del nostro amico è interessante e potrebbe essere assolutamente valutato, soprattutto visto che come una città turistica, anche sotto il profilo turistico è in sofferenza. Anche lì bisogna studiare una modalità per rendere attrattiva ai turisti, soprattutto... Ma è quelli che arrivano e quindi lo devono sapere quando... E soprattutto invogliarli anche sotto il profilo della spesa economica, perché comunque leggiamo degli articoli... In cui il turista non ha molta voglia di fermarsi a Como, si deve spendere tantissimo per spostarsi con i mezzi, non avere i mezzi adatti e poi fare il cambio navette e via dicendo. Per cui sì, è un ottimo suggerimento, anzi, grazie. Allora, il nostro Dario che ci ha scritto dalla Germania, grazie a te. Allora, abbiamo ancora quattro minuti. Chi li vuole spendere, le fai tu, le fa Aurora, fate voi. Ma ce li dividiamo, facciamo così equamente. No, io volevo ricordare e invitare chi volesse partecipare. Noi il 7 maggio presentiamo ufficialmente la lista al CNA alle 3 di pomeriggio. E chi vuole, assolutamente il benvenuto per venire a sentire. 7 maggio è sabato, giusto? 7 maggio è sabato. Ovviamente colgo l'occasione anche per dire, siccome siete già stati qui oggi e se poi dopo Aurora mi manda anche il dettaglio, noi possiamo già anticiparvela anche sui nostri social, la lista con tutti i candidati. Poi ovviamente, ecco, perfetto. No, hai fatto bene. Quindi incontro con la gente sabato prossimo, con i cittadini. Un po' di presentazione con i cittadini, con la stampa, con chi è interessato a conoscere la lista, alcuni suoi candidati che saranno presenti, le forze politiche che sostengono, che fanno parte appunto di Como Comune. Un'altra cosa su cui penso sia necessario almeno accennare è la nostra contrarietà alla terza linea dell'inceneritore. Io faccio parte anche di una sorta di coordinamento di persone che si sono trovate, che si oppongono a questo progetto, perché pensiamo non soltanto che sia dannoso dal punto di vista della salute, ma dannoso anche per il progetto che porta avanti, cioè che invece di riciclare, se non ci sono abbastanza rifiuti, portiamoli da fuori e bruciamo i fanghi. E questo è stato uno degli argomenti del quale abbiamo già trattato. Due minuti esatti, allora ancora a disposizione, magari allora se chiudi tu Aurora, della terza linea, come hai detto tu Stefano, abbiamo già parlato anche con la vostra coalizione, proprio qualche puntata fa. Allora, prego Aurora per chiudere, Como Comune. Como Comune, sottolinea anzitutto che la città di Como è una città messaggera di pace, per cui il nostro impegno è quello che la città rimarchi questo nome così importante di messaggera di pace e lo faccio con delle iniziative, perché in questo momento così difficile a livello mondiale tutti, tutti dobbiamo essere impegnati a far sentire la nostra voce per chiedere la pace. Rivendichiamo anche questo aspetto. Rivendichiamo un altro punto importantissimo che è stare dalla parte delle persone più deboli. Noi abbiamo anche una parte programmatica preposta per le persone detenute, per le persone single, per i padri che non riescono a stare con i propri figli perché hanno mancanze di alloggi. Anche qui un punto importantissimo nel nostro programma che sarà tenuto in considerazione e sul quale si lavorerà è il patrimonio edilizio pubblico. Abbiamo tantissimi alloggi, tantissime strutture che possono essere utilizzate non solo per avere degli alloggi a prezzi, diciamo, calmierati, anche per incentivare le giovani coppie che vogliono vivere a Como e creare la loro famiglia a Como ma soprattutto anche per dare degli spazi pubblici ad associazioni, a singoli, a personalità che in questo momento non si ritrovano con degli spazi adeguati. Perfetto, brava, grazie, hai rispettato pienamente i tempi. Vi ringrazio, allora, Aurora Longo, capolista Como Comune e il candidato consigliere Stefano Rognoni. Grazie ragazzi di essere venuti con noi a presentare il vostro programma e la vostra lista.